Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo ad un mortale infortunio sul lavoro che ha coinvolto un operaio gelese di 48 anni, l'uomo ha perso la vita a Parma travolto da un muletto mentre operava nell'interporto di Fontevivo, vediamo Si chiamava Mario Rampulla e aveva 48 anni, l'operario gelese è morto a Parma in un incidente sul lavoro era un operaio esperto, hanno subito detto ai suoi colleghi che adesso non riescono a trovare una spiegazione alla tragedia consumatasi ieri, poco dopo mezzogiorno, non si danno pace per quanto è accaduto il 48enne stava manovrando un muletto ed era intento a caricare alcuni bancali, improvvisamente il mezzo si è ribaltato l'operaio ha perso l'equilibrio ed è morto schiacciato l'incidente si è verificato all'interporto di Fontevivo, un piccolo comune che si trova alle porte di Parma l'interporto è un grande polo logistico dove sono presenti parecchi magazzini di stoccaggio l'uomo da tempo era residente a Parma dove si era trasferito da alcuni anni aveva lasciato Gela alla ricerca di una vita migliore e soprattutto alla ricerca di un lavoro viveva con la madre nel centro storico di Parma e aveva un figlio di 14 anni era anche molto conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e professionali lavorava alle dipendenze di una cooperativa di facchinaggio sul luogo del mortale incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri che adesso stanno vagliando le cause di quanto accaduto sono intervenuti prima i colleghi e poi i medici del 118 che non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo i soccorsi si sono rivelati inutili quando i primi colleghi di lavoro sono accorsi per l'operario giolese non c'era più nulla da fare sono rincorso gli accertamenti da parte degli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente i carabinieri coordinati dalla procura hanno aperto un'inchiesta per individuare eventuali responsabilità cambiamo argomento e adesso parliamo dell'inaugurazione del cantiere per le attività di risanamento ambientale dell'impianto ISAF di Gela un'area che si estende per circa 10 ettari e che presto diventerà come un grande campo di calcio in quell'area oggi c'è quella che rimane dell'ISAF nell'isola 9 un impianto fermo da più di 20 anni e che produceva acido fosforico adesso Eni e Sindel hanno dato il via ad un cantiere per procedere al risanamento ambientale dell'area un investimento da 50 milioni di euro a tagliare il nastro dove già da ieri lavorano un'ottantina di operai è stato il presidente della regione Rosario Crocetta noi l'ISAF l'abbiamo con l'Eni smantellato da tanti cioè chiuso da tanti anni perché era un impianto voglio ricordare che era legato alla produzione di acidi anche di fertilizzanti, tecnologie vecchie e anche in ogni caso di grande impatto ambientale per questo sono state chiuse oggi passiamo a una fase diversa, positiva che è quella della ripresa recuperando l'ambiente che è il tema principale quindi coniugare il lavoro l'occupazione che ci sarà per una parte dei lavoratori dell'indotto che cominciano a rientrare in fabbrica e quindi diciamo che anche da questo punto di vista è un messaggio, un segnale importante però lo leghiamo non a un astratto progetto di reindustrializzazione come nel passato della città lo leghiamo al risanamento ambientale alla raffineria verde mi piace parlare in italiano così divento comprensibile per tutti alla raffineria verde a quegli investimenti che sono compatibili con questa meravigliosa città Siamo finalmente all'avvio di un importante cantiere per il completamento dei lavori su cui c'è stata una forte efficienza sia da parte delle istituzioni che della Sindel per l'ottenimento di autorizzazioni su un processo complesso che noi abbiamo inteso accelerare e siamo pronti in pochissimo tempo rispetto all'autorizzazione ottenuta ad aprire un cantiere che risolverà un problema critico sul sito di Gela dando rilancio alle attività dando occupazione mentre vengono eseguite le attività di bonifica e renderà al territorio un'area nell'ambito della raffineria Con l'avvio delle attività di cantiere immediatamente a valle del completamento dell'iter istruttorio da parte della Regione e della Prefettura di Caltanissetta il programma di risanamento ambientale entra in una fase fondamentale e si raggiunge un ulteriore importante passo nell'ambito degli impegni assunti con il protocollo d'intesa firmato nel 2014 Ad oggi abbiamo aperto 32 cantieri di cui 14 sono già stati completati nel 2016 abbiamo aperto 13 cantieri pardon 14 perché oggi avremo il piacere e l'onore di aprire uno fra i più importanti ne rimangono in aprile altri 4 abbiamo speso dalla firma del protocollo circa 80 milioni soltanto per il sanamento ambientale abbiamo avviato i cantieri della Grille Finery nel mese di aprile e oggi stanno lavorando 250 persone circa per cui a livello di occupazione a livello di progresso nelle attività siamo assolutamente nel rispetto degli impegni solo nell'ambito del risanamento ambientale oggi grazie all'attività dei cantieri stanno lavorando 250 persone dell'indotto solo nel risanamento ambientale rispetto agli impegni che avevamo assunto nel protocollo nel 2016 di 1200 risorse la nostra proiezione è quella che ci permetterà di raggiungere le 1300 risorse nel 2016 quindi con un contributo addizionario rispetto agli impegni presi vasta operazione di controllo del territorio operata dalla polizia di Gela è allicata due pescatori aggrediscono i militari della guardia costiera dopo il sequestro delle loro reti vediamo vasta attività di prevenzione e controllo del territorio di Gela da parte degli uomini del commissariato in collaborazione con quattro battuglie del nucleo prevenzione crimine di Palermo controllati nel corso della settimana 455 persone e 188 veicoli sono stati inoltre controllati 35 arrestati sottoposti ai domiciliari 43 sorvegliati speciali e altri quattro che sono in libertà vigilata elevate anche 23 multe al codice della strada due le persone arrestate si tratta di Giovanni Salucci 66 anni pluri pregiudicato dovrà scontare un anno e sei mesi di reclusione arresti domiciliari invece per un uomo di 45 anni accusato di violenza sessuale e lesioni personali dovrà espiare un anno e dieci mesi di reclusione 9 invece le persone denunciate un 35enne messinese è accusato di truffa un 51enne già gli arresti domiciliari dovrà rispondere di evasione un 18enne è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti durante un controllo è stato trovato con 8,6 grammi di hashish guai per due pensionati di 73 e 90 anni non hanno comunicato alla polizia la variazione del luogo in cui detenevano delle armi regolarmente denunciate segnalati inoltre un 19enne per resistenza pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di offrire le proprie generalità ed un albanese di 26 anni per inosservanza degli obblighi della soviglianza speciale altri due giovani sono stati segnalati per aver violato gli arresti domiciliari e tentato di fuggire ad un posto di blocco e a Licata i carabinieri e la guardia costiera hanno arrestato Agostino Curella 34 anni ed Orazio Sortino di 29 entrambi i pescatori sono accusanti di violenza resistenza pubblico ufficiale dispersione di cose sequestrate distruzione di materiale militare ingresso arbitrario dove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere i militari di una motovedetta avevano sequestrato loro le reti perché erano state posizionate all'imboccatura del porto in violazione delle norme del codice di navigazione ma i due pescatori al fine di riprendersi quanto loro sequestrato hanno aggredito con calci e spintoni i militari e hanno danneggiato la motovedetta della guardia costiera per fuggire adesso Curella e Sortino sono stati posti ai domiciliari è previsto per mercoledì 16 novembre alle 11 al comune di Gela convocato dal presidente del consiglio comunale Alessandra Ascia il gruppo di lavoro Porto di Gela saranno presenti la protezione civile regionale il responsabile unico del procedimento che è Tano Calafato il comandante della capitoleria di Porto Pietro Canosia il comandante gruppo piloti Giovanni Canale e tutti i rappresentanti del gruppo di lavoro Porto di Gela l'incontro servirà per verificare lo stato dell'iter per l'avvio dei lavori di ripristino della funzionalità del Porto Rifugio dopo la firma dell'intesa tra Regione e Sicilia e Eni Comune per l'impegno del finanziamento di 6 milioni di euro per il dragaggio dell'intero specchio d'acqua del porto con l'allungamento del braccio di Polente Contro il fenomeno della dispersione scolastica laboratori polifunzionali nelle scuole primarie e secondarie di primo grado saranno presto una realtà concreta per gli alunni gelesi e le loro famiglie ad annunciare pubblicamente l'avvio del servizio è stato l'assessore comunale Licia Bela nel corso della conferenza di restituzione ufficiale degli ultimi dati sulla dispersione scolastica che si è tenuta ieri nell'aula magna della scuola secondaria di primo grado Ettore Romagnoli diretta da Sandra Scicolone il progetto che impiegherà figure professionali qualificate dei settori sociologico e psicologico è in fase di aggiudicazione ed è finanziato dal fondo del piano di zona 2013-2015 presenti ieri tra gli altri il procuratore capo Fernando Asalo e Sandra Miciche dell'osservatorio di dispersione scolastica Per noi è un'importante giornata per le istituzioni della giustizia e la procura partecipare a queste manifestazioni a questo incontro con i giovani cittadini della realtà gelese perché gli studenti di oggi di questa scuola saranno i cittadini di domani e l'educazione e la legalità è sempre un punto di riferimento prioritario per tutti noi L'attenzione della scuola nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali o con disagio è massima e ci stiamo dotando di tutti gli strumenti necessari per poter intervenire in tutti i casi specifici la legge sulla buona scuola la 107 del 2015 interviene con anche stanziamenti di fondi con dei progetti che saranno elaborati ed attuati dalle scuole per intervenire in tutte le fasce del bisogno per offrire a tutti gli alunni a tutti gli studenti a prescindere dalle loro condizioni di partenza il massimo del loro successo scolastico il dirigente scolastico Sandra Scicolone oramai le percentuali degli anni passati sono veramente qualcosa di dimenticato e ci assistiamo su percentuali che sono abbastanza controllabili ma sulle quali soprattutto abbiamo notato nel corso degli ultimi anni una significativa un significativo trend di miglioramento per cui si è passati da dati che sino a alcuni anni fa erano su 30% a dati che non vanno oltre il 10% includendo in questo 10% però anche i ragazzi che devono assolvere all'obbligo formativo e non solo quello scolastico ma anche i ragazzi che hanno delle non-ammissioni per delle ragioni di mancato raggiungimento degli esiti scolastici opportunamente richiesti quindi possiamo dire che veramente ci stiamo muovendo su un trend di grande positività in collaborazione con tutte le scuole l'altro dato importante che è in linea con il sistema nazionale è l'aumento dei ragazzi diagnosticati con disturbi specifici dell'apprendimento questo è il frutto di una legge del 2010 una legge nazionale che ha aperto veramente un nuovo campo di intervento per la scuola circa i ragazzi che hanno delle difficoltà di apprendimento come ogni anno i volontari dell'associazione Diabetici Eschilo presieduta da Giuseppe Curatolo celebrano sul nostro territorio la giornata mondiale del diabete lo scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare più persone possibili allo screening che si svolgerà domani nello spazio antistante la parrocchia San Giovanni Evangelista dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 19 e 30 medici e volontari si succederanno nel corso della giornata nello stand adeguatamente attrezzato e saranno a disposizione di quanti vorranno conoscere meglio la patologia e i rischi connessi per prevenirne l'insorgenza o le complicanze qualora non diabetici domani sera al teatro Eschilo di Gela con inizio previsto per le 20 e 30 il cesma della chiesa Regina Pacis porterà in scena il musical The Lion King si tratta di una serata della solidarietà con il ricavato della vendita dei biglietti di ingresso 10 euro sascuno si contribuirà al finanziamento di alcune micro realizzazioni per le scuole ad Amatrice cittadina colpita dal devastante terremoto del 24 agosto scorso l'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'associazione Ennese 360 e in edicola e lo vediamo il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale questi gli argomenti più importanti di questo numero un duro colpo ai coltivatori di mariuana carabiniere e polizia negli ultimi tempi ne hanno sequestrato ingenti quantitativi per la criminalità si sta rivelando un vero affare i dettagli delle ultime operazioni nella prima pagina del giornale che riferisce sulla conferenza stampa tenuta in procura Cordaro Lombardo e Zeira Placenti firmano i servizi politici di questa settimana non mancano gli articoli di attualità e cultura ne segnaliamo uno sui cibi giusti in vista della stagione invernale a firma di Vanessa Ventura che raccoglie i consensi della nutrizionista Danila Sciagura nello sport la consueta finestra sulle due maggiori squadre calcistiche cittadine Gela e Terranova in ultima come sempre la pagina degli annunci economici gratuiti ci fermiamo linea la regia per la pubblicità eccoci la seconda parte del telegiornale e che apriamo parlandovi della giornata nazionale delle cure palliative che si è svolta all'ospice del Vittorio Emanuele di Gela è stata celebrata ieri anche a Gela la giornata nazionale delle cure palliative l'ospice del Vittorio Emanuele diretto da Giampaolo Alario ha promosso un'iniziativa con la collaborazione della Soloptimist presenti le associazioni di volontariato e le scuole locali abbiamo voluto dare un segnale per essere presenti appunto nel territorio in questa giornata una giornata di San Martino perché San Martino è il protettore delle cure palliative col suo mantello avvolge i malati il sofferente quando ne ha bisogno noi lo facciamo tutti i giorni avvolgendo il nostro mantello i malati e soprattutto le famiglie per la seconda volta siamo stati insieme con l'ospice con il dottore Alario e tutti gli altri medici e tutto il personale molto contenti di essere qui presenti perché siamo molto vicini a questa bellissima struttura perché veramente abbiamo toccato con mano quello che qua dentro si fa come l'umanità e a parte la professionalità di questi medici che operano per noi per la nostra salute per salvaguardarci le cure palliative si rivolgono a pazienti in fase avanzata di malattia e a Gela città ad alto rischio ambientale la necessità è elevata ogni anno il centro ricovera circa 200 pazienti alla manifestazione hanno partecipato ieri anche i maestri Francesco Falci e il tenore internullo che hanno eseguito brani musicali per i pazienti ricoverati finalmente le istituzioni che operano nel territorio non sono isole ma si integrano e si conoscono a vicenda proprio perché le conoscenze di queste realtà possono apportare dei sostanziali miglioramenti agli interventi che si intendono fare io credo che questa iniziativa sia il segno di una grande sensibilità che la città attraverso varie componenti culturali vuole mostrare nei confronti di un reparto che da quando è stato diciamo istituito presso l'ospedale Vittorio Melone di Gela ha costituito un punto di riferimento per coloro che una volta si chiamavano malati terminali ma che in realtà sono persone che hanno bisogno di grande sensibilità e di cure molto particolari l'ospis è un'opportunità per il nostro territorio incredibile meravigliosa che accompagna il malato a livello umano nel momento più difficile penso per ognuno della nostra della nostra vita e quindi siamo tutti pronti disponibili aperti a sorreggerlo a portarlo a conoscenza di tutto il territorio oggi alle 20.30 presso il teatro Eschilo di Gela si trarà lo spettacolo con i poveri e per i poveri con la presenza dell'artista comico Roberto Ciufoli della premiata ditta l'ingresso è gratuito domani invece alle 10.30 presso la chiesa di Sant'Agostino il vescovo della diogesi di Piazza Merina Monsignor Rosario Gisana celebrerà l'eucaristia concludendo a Gela il giubileo della misericordia in questa occasione il vescovo benedirà il dormitorio per le famiglie disagiate della città presso l'ex convento di Sant'Agostino e il centro di spiritualità nazionale della misericordia e ora parliamo di calcio gara in trasferta domani per il Gela i biancazzurri saranno di scena a Roccella da una calabrese all'altra il Gela in appena sette giorni si ritrova sulla sua strada un'altra formazione calabra dopo aver battuto domenica scorsa al Vincenzo Presti l'ex capolista rende domani i biancazzurri saranno di scena a Roccella sulla carta ma solo sulla carta l'impegno non dovrebbe rappresentare un ostacolo in considerazione del fatto che i reggini annaspano in piena zona play out ma mai fidarsi delle apparenze parole e musica del difensore Angelo Bruno l'importante non è mai porsi i limiti Roccella è una squadra calabra conosco benissimo le persone ho avuto a che fare con gente come loro ed è gente che non molla mai la classifica è bugiarda sappiamo benissimo com'è il campionato di Serie D però l'importante non è mai porsi i limiti e pensare partita dopo partita a guadagnare il massimo punteggio in casa Gela si parla di salvezza da guantare il più presto possibile e poi si vedrà secondo me è presto per parlare di grandi sogni però se partita dopo partita pensiamo veramente a fare del bene abbiamo capito abbiamo imparato che anche in altre categorie se tu non ti poni i limiti e pensi piano piano può arrivare anche in alto ma come si spiega la metamorfosi del Gela una squadra che va a fratta maggiore prende 5 gol poi ritorna in casa gioca con la capolista in quel caso rende e vince 2-0 ho imparato le mie spese che è una questione di mentalità perché se tu vai in campo convinto dei tuoi mezzi senza superficialità e senza soprattutto sottovalutare l'avversario puoi giocare con chiunque però appena ti guardi un po' in alto e inizi un po' ad alzare i piedi puoi perdere anche quella più scarsa delle squadre ci sono attualmente in vetta la classifica due squadre siciliane la Leonzo e l'Igge Virtus ci credevi all'inizio del campionato? dell'Aleonzo conoscendo i nomi sinceramente sì dell'Igge un po' meno però ti ripeto in questi campionati la mentalità fa tanto fa di più della tecnica e della qualità il terzino biancazzurro è felice di avere sposato il progetto Gela mi ha accolto subito benissimo soprattutto i compagni anche il nuovo mister i tifosi non mi hanno fatto mai mancare nulla non potevo trovare di meglio sicuramente domenica scorsa non ho giocato perché hai scontato un turno di squalifica adesso ritorno in campo? guarda sono contento e stimo molto Bulades in questo momento l'ultima partita ha fatto benissimo quindi non mi sorprenderei se giocasse lui anche se io gioco lì cambia poco perché l'importante è dare il 100% per la squadra e vince sempre e nel campionato di eccellenza il terreno va a Gela giocherà in casa contro il Mazzara i gelorossi sono reduciti a due sconfitte consecutive subite al Presti nel derby con il Licata e ad Alcamo domenica scorsa appuntamento col cinema l'antitodo di Gela è in proiezione il film lettere da Berlino sono due gli orari 19.30 e 21.30 all'antitodo è scattata la campagna abbonamenti il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 338-7143-293 330-225-442 0933-822-2707 l'abbonamento intero lo ricordiamo costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani e al Teatro Eschilo di Gela sabato 19 novembre alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per gli abbonati del turno A Raimondo Todaro e Francesca Tocca porteranno in scena il grande Gerswin per la regia di Turi Giordano e Manola Turi ci sono ancora biglietti disponibili lunedì 21 invece alle 21.15 saliranno sul palco Gabriel Garco e Ugo Pagliai in Odio Amleto per informazioni il botteghino del teatro è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20 anche in questo caso ci sono due numeri telefonici 0933 911 8 92 3 4 5 5 8 8 0 5 8 0 Noi abbiamo concluso anche per oggi vi ricordiamo che servizi potete trovarli anche su internet all'indirizzo tg10.it vi ricordiamo anche che il televideo della nostra emittente è costantemente aggiornato grazie e arrivederci grazie 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 a tutti